Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio di Porta a Porta del 10 giugno del 2021 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. La Lega di Salvini perde lo 0,3 ed è al 21,5. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,8 ed è al 19,8. Il Partito Democratico perde lo 0,8 e scende al 18%. Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,5 ed è al 16%. Forza Italia di Berlusconi guadagna lo 0,1 ed è al 6,6. MDP articolo 1 perde lo 0,4 ed è al 2,3. Sinistra italiana guadagna lo 0,9 ed è all'1,7. Azione di Calenda perde lo 0,3 ed è al 2,8. Italia Viva guadagna lo 0,6 ed è al 2,4. Più Europa guadagna guadagna lo 0,2 ed è all'1,6. Federazione dei Verdi e Europa Verde perde lo 0,7 ed è all'1,4. Altri di centrodestra guadagnano il 0,2 e sono all'1,4. Altri in generale perdono lo 0,8 e sono al 4,5. Gli indecisi sono il 31,5%. Grazie a tutti e buona proseguimento di giornata.